Ragazzi se volete altri episodi qui di nostri deck strani mi raccomando lasciate un bel like raggiungeremo i 500 like e buona visione Ciao ragazzi benvenuti in questa nuova puntata di Clash Royale Allora ragazzi oggi andremo a vedere dei deck fatti soltanto da carte rare Ok la scorsa passata abbiamo visto i deck soltanto fatti da delle carte comuni E il carte rare ovviamente le ho già preparate sono queste qui Ho servito a queste carte perché effettivamente sono delle carte utili per fermare qualsiasi tipo di attacco che mi venga fatto Tranne per quanto riguarda log rider forse potrei avere un po' di problemi con log rider però Ma relativamente problemi e ovviamente ho quasi scelto tutte le carte che erano più non utili per il momento Anche perché come vedete tipo le altre sono magari un po' più costose un po' più faticose da usare Quindi ho scelto insomma quelle più facili Ok forse l'unico che potrei effettivamente cambiare è il mini pecca che potrei mettere al suo posto questa la valchiria Perché così almeno possiamo avere qualcuno che fa splash? No bugia scherzavo la dobbiamo comunque il mago quindi va bene così Ok proviamo quindi a fare una nuova partita Una sola partita a video come sapete E scopriamo effettivamente come riusciamo a sconfiggere un nemico o se perderemo di cattiveria Ok piccolo crash quindi faremo una nuova partita Ovviamente l'ho persa mi sa probabilmente Perché effettivamente si mi ha fatto il culo quello mentre era FK Altro tipo cinese giapponese Oggi sarà la giornata di cinesi giapponesi E questa volta inizierei con una cosa abbastanza carina Ovvero fare proprio cattiveria di sfondamento È un'ottima tattica utilizzare tipo a mini pecca Questa è a me bravo Ah un cannone vabbè diciamo che effettivamente non è male come cosa Apparentemente quel pecca non arriverà mai fino lì Infatti cioè ci speravo effettivamente che ci arrivasse fino alla torre Però è tutto tranquillo tranquillo è arrivato invece il cavolo che è arrivato Vabbè ok cannone è quasi morto in realtà Quindi potremmo pensare di programmare meglio le nostre truppe al momento E vediamo un po' Allora con... Ah merda fa un fracco di male raga Fa davvero un fracco di male Ok lui sta andando a buttarmi giù con le truppe Io invece così tranquillo tranquillo Sopra se lui non riesce a buttare nulla Andrei giù a buttare Andiamo un po' Fa male fa male fa male stupida cosa A fare giusto un pochino di danno ragazzi in realtà Con il mio log rider che ha fatto effettivamente abbastanza male Vai mini pecca fai vedere al cavaliere che tu sei molto più potente di lui Bravo mini pecca Poi ce l'ho anche al 4 Non so nemmeno come diamine è possibile che abbia mini pecca al 4 Che non uso mai sinceramente Mi è arrivato a quasi metà vita solo con un colpo ragazzi Death mini pecca direi che è ottimo Ok non posso usare la goblin hat perché mi ha fermato con questo coso al centro Anche se effettivamente potrebbe anche riuscirci la goblin hat ad arrivare in qualche modo a sinistra Lui sta puntando a destra io sto puntando a sinistra Quindi più o meno siamo un po' diciamo un po' a metà Ok si in realtà riesce comunque ad attaccare Ma sinceramente non direi che è stata un'ottima idea utilizzare qualcosa Oh Guarda contro quello effettivamente Vediamo un po' se diciamo così Ok un colpo l'ha dato Buono E ovviamente stiamo anche difendendo in qualche modo Mini pecca Lui ha tanto strutture ragazzi Questo è un po' un vantaggio per noi Anche perché noi dobbiamo tanto attaccare in realtà al momento Quindi potesse che del resto Ah merda una struttura me l'ha buttata giù Ovviamente E sta difendendo abbastanza bene il pezzo di merda Eh beh vedi che è stupido Mettiamo il gigante di qua Ok Proviamo a fare in questo modo Addirittura sta buttando di tutto contro di me Tipo palle di fuoco Razzi Che finale ne metto sinceramente Però forse ce la faccio a passare Ok rider vai Ok ragazzi ce la faccio E visto che mi sento anche fiducioso di poter vincere Anche perché non ha truppe forti Riesco addirittura a fare tre stelle Cioè tre corone anche forse Neto mi ha fermato Però effettivamente è andata molto molto bene Ok ce li ho fatto il culo GC Va bene ragazzi Questa era la seconda partita In realtà la prima partita Perché niente l'altra Era un po' stata bugata E siamo riusciti a vincere anche con un deck Full carte rare Un buon deck questo sinceramente Soprattutto contro questo tipo Che in realtà non aveva non su una trappa aerea E ho stato difeso Quindi è un po' Così così Comunque ragazzi Noi ci vediamo presto con un nuovo video Da Ulis è tutto Ciao ciao E mi raccomando lasciate un bel like E mi raccomando lasciate un bel like